Siamo tutti fratelli, alla vista diversi, ma nel cuore uguali. Come fermare il razzismo? Smettere di parlarne. Io non ti chiamo più uomo bianco e tu non mi chiami più uomo nero. Non è importante l'aspetto, ma ciò che abbiamo dentro. E questa è la mentalità che tutto il mondo dovrebbe avere. No razzismo, siamo tutti uguali. Il razzismo è un crimine e il crimine non dovrebbe esistere una civiltà venuta. Alcune persone hanno bisogno di accettare che il mondo è pieno di colori. Il calcio è uno sport dove essere giocato all'esistenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.